Tosso, buonasera signori. Buonasera. Inziamo con le ordinazioni? Sì, come no. Da bere cose gradite? Una bottiglia di vino bianco. Va benissimo. Diciamo se è possibile un calice di osso. Certamente. Vecini antipasti? Vi consiglio quelli di giornata che sono freschi freschi. Va bene, va bene. Quelli della casa vanno bene, no? Pensi? Va benissimo. Grazie mille. Grazie a te. Sono un'integrazione. Io stavo più pensando al suo fatto di parcheggiatura. Cosa c'è? Un'offerta a piacere 5 euro. Cioè, gli hanno dato una camurria, loro non è un'offerta a piacere. C'è la rifa. Quota fissa, 5 euro. Ma non si spiega. Cioè, allora perché gli c'è un'offerta a piacere si può s'annavigliare 5 euro? La cosa bella che sono pure abusiva e si deve essere pure autorizzata. E se non c'è la città 5 euro. Scusa, possiamo ordinare? Mangiamo una cosa, Carlo. Cosa vuoi dire Ciro? E allora, niente, a me mi fai fare una linguina con l'astice. Va bene. Eh? Invece che le devi una gnocca, la sorrenti. Per lei invece? Per me la dovrebbe bere uno spaghetti a frutto di mare, grazie. Sono subito da voi. E guadio, tutto a posto? Sì, sì, grazie. Mi fate un po' di spazio? Ah, come no, come no. Prego, prego. Ecco qua. Ah, ci teniamo pochi spazi, eh. Allora, come ruocete? Tutto bene? Sì, sì, tutto perfetto, grazie. Ma tu da quanto tempo lavori qua? Eh, diciamo che è un anno che si tira avanti. Ah, bravo, bravo. Perciò non sei così bravo, eh. Ci stanno certi camerieri di Ciro. Ecco tutti che fanno. Ah boh, ognuno fa il suo. Senti, e come ti chiami? Mi chiamo Ciro. Piacere, Ciro. Io mi chiamo Salvatore. Ma di dove sei tu? Sono in casa a Forcello. Ah, a Forcello. E quant'anni tiri, Ciro? Ecco, 25 anni. Abito con mia madre e mio fratello piccolo. E tuo padre? Eh, ha fatto una brutta fine. Siamo arrotati quello che ha avuto. L'hanno rossato. Ah, vabbè. E mica voglio fare la fine. di tuo padre. E' un ragazzo intelligente. Ciro, non fa struzzate. Hai capito? Sinceramente, preferisco chi fa di onestamente e porti i soldi a casa. A così, ringra una mano a mamma e a fratello piccirino. Scusate l'interruzione, Ciro. Ti ricordo che non abbiamo solo questo tavolo. Scusate. Ci vediamo a muovere. permesso. Tutto di vostro gradimento? Sì, tutto squisito. Grazie. Lasciamo un po' che ha desiderato. Ehi, va bene. Tutto buono, grazie. La ringrazio. Ah, Ciro. Portami pure il conto. Va bene. Signori, il conto. Dalla a me, Ciro, dai. La domanda è una curiosità. Ma voi che mestiere faccio? Io che mestiere faccio? Io che mestiere faccio? Io faccio l'assessore, Ciro. Questo signore è un avvocato e lui è un ingegnere. Ah. Ogni tanto ci riuniamo qua, facciamo due gli anni, ragioniamo con più cose nostre. E perché no? Veniamo anche a mangiare veramente bene. Eh? Strano, ma l'hai mai visto qua? Ma manca io te l'ho mai visto qua. Al posto. Queste li mettiamo qua. Aspetta, Ciro. Queste sono per te. Per l'ottimo servizio fatto. Mi raccomando, Ciro. Lavora onestamente e pensa alla famiglia. Quella che tieni oggi è quella che ti dovrai costruire nel tuo futuro. Una moglie. Dei figli. Pensa che io, per fare questo lavoro, l'ho distrutto. E ora vieni. Mi ritrovo da solo. Divorziato. E senza l'affetto dei figli. Che quasi non li conosco. Ma che cosa fa? Ho pensato al loro bene. Alla loro vita. Alla loro benessere. Ai loro bisogni. E non mi sono accorto che quello che le mancava era l'affetto di un padre. Oh. Oh. Ma che combina? Aspetta, Ciro. Sei bagnato col vino. Eh? Meglio così. Questa ti porterà fortuna, eh? A questi fratelli. Grazie mille. Allora vai, Ciro, vamo. C'è il mio pronuncio. Andiamoci. 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 Grazie mille. È stato un piacere, Ciro. Piacere è mio. Stami bene. Arrivederci. Sì. Sì. Voi così? E ancora niente? Eh sì. Non posso andare a ieri sera. Non ti preoccupare. Non ti preoccupare. Non ti preoccupare. Mi ho becchicchi. Ma gli faccio una telefonata. Eh? Sì. Noi ci vediamo al solito posto. Hai capito? Eh? Vapo. 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 Ma se può sabiare usci. Ehi. Egliamo a ciò. Vediamo. Ehi. Sate buono. Ciao. 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 Sì. Così. Ma che hai fatto? Sei venuto. Vapo. Andiamo. Sì sì. Tutto a posto. Avete che la fanoretta sta là. Sì. Secondo me è meglio che vai pure tu con il capannone. Hai capito? Così ti prendi quello che ti devi pigliare e tu stai a posto. Hai capito? Eh? Vapo. Ci vediamo fra giusto una settimana a casa mia. Hai capito? Eh? Ok. State buono. Ciao. 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 Sì. Sì. Non vedo niente. Ok. Stai mai. Andai. Sì. 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 Andiamo. Dai. Va bene. Ma giù. Mi guarda la bocca della cosa a me. Ah. Ti sei la ricordata. Ok. Sì. Sì. Alla prossima. Sì. 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 Ehi. Come sta andando? Allora ci dobbiamo solo incontrare. dove ti costruisco. E' per quel debitino. Ti ricordi? Eh? Eh? Allora ci dobbiamo in dove ti costruisco. Ok? Ok. Va bene. Ok. ici. Come stai? Mi preoccupate. E' pronto? Voi ci si può fare la malafah, facci, non ci vedi pure un manzi papà Ah no, faccio, si adai Si, caso 10, a 20 euro l'uno Questa è roba buona ve ne lasci faccia Va buona? E non d'avvole, sull'infermbrè Perchè? Per me? Perchè non sei bene sosta Perchè? Perché vabbè? Non ti preoccupare Non ti preoccupare, ti chiami Grazie a tutti. 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 Belli. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.